Anche il comune di Gibellina, come molti altri del comprensorio trapanese ed egrigentino, soffre per via delle economie risicate, acuite dalla morosità di alcuni residenti che non versano regolarmente i tributi locali e le spettanze. A confermarlo al nostro telegiornale, il sindaco di Gibellina, Salvatore Sutera. Territorio di Gibellina che comunque, attraverso l'arte, la cultura e il lavoro della Fondazione Orestiadi, preseduta da Calogero Pumilia, riesce sempre a richiamare numerosi turisti e ad organizzare eventi di qualità molto apprezzati dal pubblico. Forse Gibellina soffre ancora di più e in questo senso. Chiaramente noi cerchiamo di lavorare tra la piaga, tra virgolette, e delle condizioni economiche particolari che tutto il territorio siciliano vive. Anche il comune di Gibellina ha un problema nella riscossione di alcuni tributi e chiaramente abbiamo anche messo a regime una modalità per riuscire a recuperare questi crediti perché il fondo crediti di dubbia esegibilità, che è una cosa che significa accantonare le somme dedicate ai servizi e diventa sempre una cosa molto più importante. E tra l'altro Gibellina si viene a trovare in una situazione in cui per tutto il patrimonio di opere d'arte e musei eccetera noi non abbiamo un euro in più rispetto a un altro comune di 3.800 abitanti e quindi se certamente soffriamo però cerchiamo con tutte le forze di trovare soluzioni. Che parte si prevede per Gibellina dal punto di vista anche delle presenze turistiche? Guardi, noi credo che l'aspetto turistico è quello a cui stiamo lavorando, cercando sicuramente di valorizzare il grande patrimonio artistico. Chiaramente c'è un'attività del comune ma lavoriamo in sinergia con la Fondazione Orestia e lavoriamo in sinergia per fortuna anche con qualche impresa illuminata e io mi auguro che ce ne siano anche altre quindi questo è importante per la città di Gibellina. Chiaramente la Fondazione con la sua 42esima edizione dell'Orestia è sicuramente un caposaldo importante perché porta avanti questa tradizione del teatro ma non solo del teatro quindi voluta da Ludovico Corrao. Lo stesso cerchiamo di fare come città e quest'anno inauguriamo a fine luglio la quarta edizione di un festival davvero importante di fotografia che si chiama Fotorod che è una serie di allestimenti gigantografie in tutta la città e credo che si sposi davvero bene con l'architettura e con gli spazi particolari di Gibellina. Credo che sia una delle manifestazioni davvero più importanti e fino ad ora è cresciuta notevolmente ogni volta di più. Ci auguriamo che anche la quarta edizione segni uno sviluppo ancora maggiore. In questi giorni ci saranno anche le riprese di una puntata di Macari che è ambientata a Gibellina quindi ci saranno per una settimana le riprese in tutta la città quindi stiamo cercando di organizzarci. E poi una serie di iniziative che il Comune fa nelle piazze che è un po' più popolare ma mi sembra anche assolutamente normale però abbiamo cercato di collaborare con la Proloquo, con le associazioni che per fortuna rispondono bene e quindi diciamo un cartellone credo abbastanza nutrito e che spero possa piacere e far sì che un po' di persone. A questo si aggiungono le mostre della fondazione, questa che a settembre sarà sicuramente una bellissima mostra per delle ceramiche quindi tutta una serie di eventi che fanno sperare bene. Grazie. 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 Grazie.